Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Un abbraccio dal vostro Nordic e finalmente, dopo mesi e mesi di assenza, siamo pronti per iniziare una nuova avventura su Ark. Ah, quanto mi mancava. Dunque, ci troviamo su Ragnarok. E adesso vi dico anche perché ho scelto questa mappa per questa nuova serie, ma volevo prima farvi vedere un paio di cose. Allora, come potete vedere la grafica è notevolmente migliorata perché ora ho un nuovo PC che monta una scheda video RTX 490 e questo mi permette di giocare con la grafica tutta al massimo, quindi epica. E oltretutto risoluzione 4K. Ora, non so se riesco anche a caricarvi il video in 4K perché, come sapete, porco! Oh, iniziamo bene! Via, maledetto uccellaccio! Come sapete, i video in 4K occupano molto più spazio e quindi dipenderà anche un po' dalla connessione se riesco a caricarvelo. Ma comunque sì, anche se lo vedrete in 1080, noterete sicuramente i miglioramenti grafici. Cioè, guardate come si vedono tutti i dettagli assurdo. Pure i fiorellini arancioni, ma chi li aveva mai visti, questi fiorellini? Ho intenzione, poi, di fare anche altri gameplay su altri giochi, chiaramente in parallelo a questa serie. Visto che ormai ci possiamo permettere di provare qualsiasi gioco, anche gli ultimi usciti, non sarebbe male portare qualcosa di diverso. Sicuramente porterò Starfield quando uscirà a settembre e naturalmente Arc Ascended che, purtroppo, hanno rimandato ancora. Strano, la wildcard non le fa queste cose. Dovrebbe uscire per ottobre, così dicono. Io nel mentre che chiacchiero però mi devo un attimino sistemare, perché sennò qua moriamo male. Quindi iniziamo a prenderci le solite risorse iniziali. Ok. Ci mettiamo il punto in peso e ci sblocchiamo i soliti attrezzi. Cetta di pietra e lancia. Vai. Ho scelto questa mappa Ragnarok per due ragioni fondamentalmente. Allora, la prima ragione è che questa, pensate, è stata la mia prima mappa che abbia mai giocato su Arc. Ho conosciuto Arc proprio su un server italiano e da lì è scattato l'amore. E siccome sono passati tanti anni avevo proprio voglia di ritornarci a giocare e fare una nuova serie. Tra l'altro in quella direzione, se non sbaglio, è dove ho costruito il mio castello, in quel server, sul quale ho fatto anche un video e andatevelo a vedere perché è veramente un bel castello. Ok, poi, altra ragione per quale ho scelto Ragnarok è che le altre mappe canoniche, per canoniche si intende quelle che contengono la storia, quindi tipo The Island, Extinction, Scorched Earth, eccetera. Le voglio lasciare un attimino in sospeso per farle tutte bene in ordine cronologico una volta che esce Ascended. Quindi lì inizieremo proprio bene dall'inizio con The Island e useremo sempre lo stesso personaggio, faremo tutte le ascensioni perché in realtà Arc è così che va giocato. Non bisogna ogni volta farsi un personaggio nuovo, anzi bisognerebbe portarsi indietro anche le creature e i dinosauri che hai amato, quindi faremo proprio bene una serie quando uscirà Ascended. Quindi per questa serie ho voluto scegliere una mappa che è bellissima, perché Ragnarok è ancora considerata una delle migliori mappe su Arc, ma che comunque non contiene storia e quindi può essere giocata, insomma, in qualsiasi ordine si vuole. Ok, allora, dunque, dobbiamo un attimino attrezzarci, quindi piccone, altro punto lo mettiamo sempre su peso, ci sblocchiamo il fuoco da campo e poi piano piano tutti i vari vestiti che qui su Ragnarok, come tutte le mappe nordiche, fa abbastanza freddino la sera. Ragnarok, ragazzi, è una mappa davvero bella perché ha una zona vasta desertica che ricorda molto Scorched Earth e ci sono tre dungeon molto belli che contengono addirittura anche dei mini boss dentro e poi sicuramente tanto ci andremo a morire prima o poi perché contengono gli artefatti, quindi. Allora, altro punto, vai con gli altri vestiti, ci raccogliamo al volo un po' di selce, così ci facciamo cetta di pietra e qualche lancia e anche qualche straccio, va. Ecco, guipaggiamo il tutto, perfetto, e adesso iniziamo ad andare a caccia di qualche dodo. Oddio, anche sto listrosauro non sarebbe male, eh. Oddio, un Argentavis, ma cacchio, non mi ricordavo che c'erano questi qua. Via, 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 questi sono pericolosi. Ok, qua, un povero parasauro che si è incastrato. Ti salvo io. lascialo stare. No. Aia. Cacchio, un dilo di livello 95 dovevamo beccare. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, corriamo un po' di legna. Ci facciamo qualche altra lancia. Oddio, via. Oddio, vabbè. Niente, divorati da un dilofosauro. Ok, ci sta a livello 95. Prima morte della serie. Ok, poi dimenticavo di dirvi anche un'altra cosa, in realtà. Prossimamente poi vi registro anche l'episodio che mancava di Genesis Parte 2, praticamente la battaglia finale contro il boss, visto che adesso ormai con questo nuovo PC non sarà un problema registrare nell'arena. Ok, allora. Eccola là, l'argentavis. Ci vuole smanciucchiare. Allora io direi di prenderci la roba e di allontanarci un attimo da qua, che la zona non è proprio delle più amichevoli. Allora, raccogliamo un po' di risorse per fare anche il fuoco. Ci sblocchiamo anche il sacco a pelo. Allora, sì, ma qualche doto da maciullare non c'è, porca miseria. Ma ciao, bel doto, come stai? Oh, scusami. Allora, andiamo di accetta. Così raccogliamo la prima pelle. Trattarugozza, se è di livello 50, troppo alta. Vediamo un po' da sta parte che c'è di carino, ma... Altri dodo. Ah, bello sto posto, me lo ricordo. C'è uno scheletro gigantesco, molto più grosso di un T-Rex, quindi mi presumo sia un giga a sto punto. Via, è qua. Ci sblocchiamo anche la fionda, che può servirci all'inizio. E la scatola, va. Allora, ci facciamo la solita capanna iniziale, perché tanto poi da qua ci spostiamo. Mettiamo un bellettuccio, tipo qua. Una scatola provvisoria. Mettiamo il fuoco da campo qui. Ok. Perfetto. Ok, dobbiamo anche rivestirci di nuovo. Vediamo un po' in queste acque qua vicino che c'è di interessante. Megalodonti non mancano mai, eh. Questo pare mezzo addormentato, ma... Non vorrei avvicinarmi per scoprirlo. Detto ciò, ci iniziamo anche a sbloccare... Le fondamenta, così ci facciamo la solita casetta in paglia. Signora tartaruga, non glielo consiglio ad andare lì giù, eh. Ci sono brutte bestiole. Beh, io t'ho avvisato, eh. Allora. Vai. Ci sgranocchiamo le prime bistecche. Scogliamo un po' di fibra. Ah, tra l'altro questo posto dove sono spawnato è la famosa Viking Bay, la Baia dei Vichinghi. Che si trova a nord-ovest, su Ragnarok. Ed è una delle zone più tranquille dove spawnare all'inizio. Allora. Così. Qui chiudiamo. La porta la mettiamo qua. Casetta più o meno pronta. Qui lo lasciamo aperto, magari ci mettiamo le cose per il crafting. Qui chiudiamo con una bella porticina. Ecco. Ah, ma c'hanno anche una maniglia a queste porte. Ah, vedete i dettagli ultra che servono? Allora, c'è Sargentavis che un po' mi preoccupa, però finché svolazza lontano non è un problema. Il dodo ce lo addormentiamo. Tiè. Forza dei cazzotti. Ok. Più che altro perché potrebbe servirci per le uova. Allora, gli diamo le miglior bacche. Vai. Come timing ho messo un 3x, ragazzi, così non è troppo esagerato. E siamo a posto. Diciamo che sta per venire la notte, ma abbiamo un primo punto d'appoggio. Tu fai da bravo. Ammazza che bei colori che c'ha sto dodo. Lo mettiamo sul passivo. Ok. Ecco. Prima cosa che fa lui è caga, ovviamente. Ah no, ha fatto un uovo. Ce lo acchiappiamo subito. Non so se lo vedete laggiù. C'è un bel castello abbandonato che non vedo l'ora di andare a visitare perché quando giocavo nel server era pieno di gente là dentro. Adesso ci mettiamo un altro punto qua su peso e vediamo se riusciamo a sbloccarci la bola. Ecco qua, perfetto. Perché ora ci addomestichiamo anche un bel parasauro. Ammazza questo è il livello 145. Cavoli. E sarebbe molto buono. Vediamo, vediamo se ci riusciamo. Allora, toccherà farci innanzitutto la fionda. Quindi raccogliamo un altro po' di risorse. E ci serve un po' di pelle per farci qualche bola. Ah, maledettissimi composnati. Tiè. Prima che arrivano gli amici tuoi. Uno fatto secco, oppure l'altro. Se maniamo tutta la pelle. Ok. Oh no, poverino. E questo? Stai cercando i tuoi amici? Te faccio vedere dove sono nati, via. Ecco. Perfetto. Ci facciamo anche un'altra fionda. Tanto una sicuro si rompe. Possiamo tentare l'addomesticamento del parasauro, ma la vedo molto dura perché è un livello troppo alto. Uniamoci di tante pietre. Aspetta che ti buttiamo dentro casa però perché... Ci sono un po' troppi argentavis anche qui. Adesso lo imboliamo. E lo prendiamo a sassate in fronte. Tiè. Beccate ste sassate. No, 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 no. Non scappare, oh. Non andare in acqua. E qua, maledetto parasauro. Ecco. Cavolo, gli stiamo facendo troppo male però. Questo ci rimane secco, mi sa. No, 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 aspetta. Andiamo di pugni, che forse è meglio. Mi sa che ci muore questo. Peccato. Proviamo quei pugni, sempre. Ammazza, oh. L'abbiamo ammazzato a cazzotti. Mmm. L'ideale sono le frecce sedative ma... Ancora non me le posso permettere. Quasi quasi forse l'ideale... È la clava. Sì, forse questa fa meno danni. E andiamo a cassa di un altro parasauro. Uh, aspetta un po', ce n'è uno tech qua. Mmm. Vediamo un po'. Che livello sei? 168. Eh, vabbè. Proviamoci. Magari con... La clava ci va meglio. Vai. Eh sì, la clava fa molti meno danni. Vedete, leva a due. Avrei dovuto usare questa prima. Beccate se bastonate sui denti, dai. Dilo. Non rovinarmi tutto tu, eh. Vi è qua che ti rimbolo. Perfetto. Ma, mannaggia a te, ma quante... Bot te serve una panna giù, si può sapere? C'è. Ci siamo addormentati noi invece di lui. Ma com'è possibile? Ah, cacchio, perché ho finito l'energia. Ehm, va bene. La vedo lunga. Oddio. È stata l'impresa addormentare sto parasauro, eh. Ok, mi sa che purtroppo gli ho anche dato un colpo dopo che è cascato. L'argentavis non se lo mangia, vero? Spero di no, eh. Allora, andiamo a prenderci le miglior bacche. E per sicurezza gli mettiamo anche le altre. Oh mio Dio. Argentavis. Sta buono, eh. Nel mentre raccolgo un altro po' di bacche. Poi vediamo se riusciamo anche a farci la sella al volo. Allora, dovremmo addomesticarlo tranquillamente. Parasauro. Ok. Pelle, legna e fibra. Perfetto. Allora, ci vediamo direttamente dopo. Quando è pronto il tutto. Se vi state chiedendo perché è livello 168. È semplicemente perché le creature tech sono più alte di quelle normali. Se no il limite comunque è 150. Ok. Perfetto. Ah, ecco il nostro primo parasauro. Ecco, grazie. Allora, gli mettiamo la sella. Eh, lo sta qua. Ok. E... Sono indeciso se mettergli anche questa skin, ma... No, 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 no. Questo ha già dei bei colori di suo, quindi lo lasciamo così. Ah, eccoci qua. Perfetto. E sta bella creatura adesso ci permetterà di raccogliere molte più bacche. E in genere di farmare più facilmente perché trasporta un bel po' di peso. Vediamo un po' anche le statistiche, non ci ho fatto caso. 777 di peso. Non è male. Ottimo. Anche un ottimo danno, ma sinceramente non è che ci facciamo molto. L'unica cosa sono questi argentavis maledetti. Che presto dovrò farmi una creatura per difendermi qui. Eh, vabbè. Questo è venuto a curiosare proprio qua, vicino casa. Vabbè. Parasauro preso. Ehm, dentro ci abbiamo... Il nostro dodo. Che sta cagando un sacco di uova. Mi sa che devo limitargli la produzione di uova perché ne stai facendo troppe tu. Allora, purtroppo lo so, magari è stato un po' corto questo episodio, ma... Essendo il primo che faccio con questo nuovo pc, devo un attimino vedere le impostazioni e fare alcuni settaggi. Quindi, meglio fermarci qua. Poi, dalla prossima puntata, ovviamente, andiamo a catturarci qualche creatura più seria. E... Semmai, poi, ci sposteremo verso qualche posto un po' più carino. Ci mettiamo qui dove c'è la luce. Come sempre, vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un bel like al video ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao! Oddio. Ho sbagliato il gesto, scusate. Ciao, ciao! Oddio.